speciale attratti di Mascherawa sogniamo di ritendere questa esperienza noi possiamo dire di poter essere entrati dentro la sua energia musicale this is the master DJ Lewis, Lewis Joy 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 Keep yourself tonight Lewis Joy Lewis, Lewis Joy Lewis Joy Lewis Joy Lewis Joy Lewis Joy Voglio fare una yoga mentale yoga yoga is what is our radio stop with your song keep you busy my focus you dancing to my life 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 Oh my god. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. con... a tutti. a tutti. ... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ... a tutti. a tutti. a tutti. ... a tutti. a tutti. a tutti. ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Universale, potere, cerebrale, potenza, 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 potenza ad alta frequenza. Potenza, 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 potenza ad alta frequenza. Potenza, 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 potenza ad alta frequenza. Potenza, potenza ad alta frequenza. progressione ad alta tensione, progressione ad alta tensione, progressione ad alta tensione, progressione ad alta tensione, un saluto speciale con il cuore e con la mente, perché, perché, ma tu lo sai, ma tu lo sai, che il potere della mente è il più forte resistente, che il potere della mente è il più forte resistente. Essere, essere o non essere, per noi non è un problema, abbiamo già capito anche questo teorema. Essere o non essere, per noi non è un problema, abbiamo già capito anche questo teorema. In totale, in totale, immersione sensoriale si innalzava, si innalzava verso un alto cielo artificiale, si innalzava verso un alto cielo artificiale, attraverso il padiglione auricolare, succhiava, succhiava musica potente, come benzina, nutriente, per un cervello rompante, ben pompato e vibrante, per un cervello rompante, ben pompato e vibrante. Angeli o temoni, angeli o temoni, angeli o temoni, in questo grande teatro, beato e dannato. Angeli o temoni, angeli o temoni, in questo grande teatro, beato e dannato. No! questo è il nostro sforo musicale Francesco Cappalato Anglietta, change the DJ Mr. Joe P. Vanelli Francesco Orangina, disculpa Giragina, giragina Guarda la musica E' un sogno esplendido Continuiamolo insieme Lo representante Leo Leo Lui e Leo Leo Degas e Mr. Leo Sout Come leone di Leo Cripsi, yes This is the master of sound And this is the first sound Leo Sout Oh my god We put police to you E' un sogno Flooro And this is the master of sound And this is the master of sound And this is the master of sound Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!